il 6 B trova a trovare la scubertura ancora la trottola trova il 6 B e si butta tra le braccia di Roba che però riesce a scudare benissimo e il sciuffo fa il balletto e il tango con fref attenzione e parte la schiacciata ed è 1 a 1 attenzione A TEMPO! OH DIO! Ottimo, ottimo! Approfitta dell'erba per fare la contromossa e spuntare dal nulla Sì, sono davvero bene L'ho assopato, Ritro Mamma mia, davvero bella Non prendi con la meteora MAMMAMMIA MAMMAMMIA A TEMPO! Ritro Si mette in una bruttissima posizione OH MIO DIO! OH MIO DIO! Tristock! Ragazzi che c'era Ma quando ti hai sui show Mamma mia, 60 Ma sono passati 470 Mamma mia Signori andiamo tutti a casa Andiamo tutti a casa Starebbe stemmiando in quattro lingue diverse se non cinque